Sono la Società Cooperativa Madonna del Soccorso, la Società Cooperativa Madonna del Carmine e l'Associazione Giovani Pescatori di Licata, che con una nota congiunta esprimono apprezzamento per l'aderoga al fermo obbligatorio delle marinerie, deciso dall'assessore regionale Titti Bufardeci. Rivolgono un ringraziamento per l'impiego di circa 32 milioni di euro per il pagamento, tramite le direzioni marittime, delle indennità spettanti alle imprese e agli equipaggi per la calamità naturale. Rimane, tuttavia, spiegano, un profondo stato di crisi, di disagio e di sofferenza in cui si trovano i nostri armatori e pescatori, legato ancora al caro gasolio e agli alti costi di gestione, alla difficoltà nella commercializzazione per mancanza di infrastrutture ed, in ultimo, alla scarsità di pescato che si è venuto a determinare con le restrizioni imposte dal regolamento del Mediterraneo, specie per quanto attiene l'allargamento delle maglie delle reti da pesca. E su quest'ultima questione, aggiungono, dobbiamo dare atto all'assessore Bufardeci e al direttore generale Gian Maria Sparma di aver mantenuto l'impegno nell'avviare una campagna di ricerca atta a dimostrare l'inefficacia dell'utilizzo di dette maglie, che di fatto impediscono la cattura di molte nostre specie di piccola taglia, ma di età adulta, e non a rischio estinzione. Infatti, nelle prossime settimane, gli istituti di ricerca ISPRA e CNR, in collaborazione con le marinerie, inizieranno una campagna di ricerca e monitoraggio lungo le nostre coste, che avrà la durata di cinque mesi, le cui risultanze verranno poi presentate a Bruxelles. L'auspicio, ora che, a breve, si possano trovare tutte le possibili soluzioni attraverso l'individuazione e la messa in opera di nuovi strumenti che possano contribuire ad attenuare l'attuale stato di crisi, quali ad esempio l'attivazione del credito peschereccio, a tasso agevolato, per poter affrontare le normali spese di gestione, così come già previsto per altri settori come il commercio e l'artigianato. L'azzeramento della liquota IRAP, per quanto concerne la quota regionale per l'intero settore della pesca, o ancora l'istituzione delle commissioni consultive locali per la pesca, previste dal decreto legislativo del 26 maggio del 2004, che il settore ritiene fondamentale per affrontare e proporre soluzioni alle varie problematiche locali delle marinerie. La definizione di tutti i bandi FEP attraverso l'emanazione dei decreti di connessione, con particolare riferimento all'ammodernamento pescherecci. E ancora, la riapertura del bando relativo ai piani di gestione locali, consentendo anche alle marinerie agrigentine di poter sfruttare queste importanti opportunità. L'intenso lavoro sin cui portato avanti, puntualizzano, a cui hanno partecipato il Ministero, l'Assessorato, la Direzione Generale Pesca e le associazioni, non solo ha raccolto il consenso delle nostre marinerie, ma è la dimostrazione che lavorando tutti, ognuno per la sua parte, su obiettivi comuni, si ottengono buoni risultati. Siamo certi, concludono, della grande disponibilità e sensibilità da parte dell'Assessorato Pesca nei confronti delle nostre marinerie. E nel contempo, invitiamo tutti gli attori a battersi per gli interessi della pesca siciliana e a difendere e valorizzare le tradizioni e le culture che attorno ad essa sono nate e si sono sviluppate, con l'auspicio che possa continuare a rafforzarsi lo spirito di collaborazione, fin qui intrapreso, fra tutte le parti interessate, per poter al meglio affrontare le varie problematiche del settore e permettere un reale ed efficace sviluppo della pesca in Sicilia. Grazie.